Sabato 14 settembre l'unità pastorale di Bettona Cannara Passaggio insieme al parroco Don Ferdinando dell'Aquila si è recata in pellegrinaggio a Loreto. Il gruppo di pellegrini ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa nella Sala del Tesoro, detta anche Sala del Pomo Arancio, e ha tra l'altro pregato davanti alla Madonna Nera. Nel pomeriggio il gruppo si è trasferito a Re Canati per una visita guidata alla casa del poeta Giacomo Leopardi.